Confindustria De Santix, presidente della sezione Ecologia e Ambiente. L'Assemblea delle aziende della sezione Ecologia e Ambiente di Confindustria a Siracusa ha riunitasi ieri pomeriggio e ha eletto presidente per il biennio 2021-2023 Nestore De Santix, amministratore unico della Eco Control Sud SRL. Vicepresidente è stato eletto Enrico Montoleone della IAS SPA e consigliere Vincenzo Caruso, a Retusa Ambiente SRL, Carlo Montella, Eni Railwind SPA e Caterina Quercioli, IGM Energy SRL. I temi dell'ambiente e della sostenibilità dell'economia circolare saranno centrali nei prossimi anni, ha commentato Nestore De Santix, e noi dobbiamo essere pronti a cogliere le sfide che l'Europa ha messo in campo per affrontare le emergenze climatiche. Saremo una squadra compatta che, d'intesa con la governance di Confindustria a Siracusa, si muoverà per aiutare le aziende a crescere e a sviluppare politiche sempre più green e rispettose dell'ambiente.